E' sempre lei? Che altro c'è da dire? Mamma, ma dobbiamo fare per forza questa festa? Certo, è il tuo compleanno, bisogna festeggiare. Perché hai chiuso? Non l'ho chiuso io. Papà va via e ti lascia qui. Ti odio. Sono loro, sono tornati. Dimmi cosa hai visto. Ho paura. Dove è Lucy? Sono io, Nicola. Dimmi dove! Dimmi che cosa devo fare. Qualunque cosa. Lasciaci andare via. Adesso loro vogliono tornare.